Simone, tiriamo il bilancio di questi sei mesi, per te credo assolutamente positivi. Sì, come ti ho detto in una delle prime interviste che mi hai fatto, avevo molta voglia comunque di giocare e di mettermi in mostra. Poi per fortuna è stata bene, non siamo però riusciti di squadra ad andare avanti nei play-off, però comunque già arrivare c'è stato per noi un buon risultato. Per quanto riguarda me sono contento, per questi sei mesi ho passato benissimo, ho trovato delle persone davvero stupende e poi per l'anno prossimo si vedrà. Esterno destro, sinistro, centrale? Non mettiamo ovunque insomma. No, il mister comunque mi ha sempre dato fiducia e io ho cercato di ripagargli nel migliore dei modi sul campo. Sì, destra, sinistra, come ti dicevo, per me l'importante era giocare, ritrovare il ritmo partita. E il ruolo sinceramente non era importante, cercavo di dare quello che sapevo fare con impegno per 90 minuti. L'impatto, come ti sei trovato a Bergamo? No, bene, bene, sempre ho trovato persone importanti che mi hanno saputo accogliere e accettarmi all'interno del gruppo nel migliore dei modi.